Lo schiavo non era drogato. Hai cercato di uccidermi? Stamattina eri un donnaiolo, temuto e invidiato. Ma stasera sei un eroe. È il mio regalo. Senti, se fossi in te lo affogherei adesso dentro quella di nozze. Ti dovrei affogare in quella vasca. Non essere avventato. Ho anche un altro regalo per te. Uno più grande. Arrakis. Era per Raban. Non ha protetto la produzione di spezia. Raban verrà riassegnato. Doma Arrakis, Veid. Libera la spezia, ti farò imperatore. Imperatore. Come? L'imperatore mi ha aiutato a distruggere gli Atreides. Con il suo esercito per la causa. È un crimine grave. Se venisse alla luce, le grandi case insorgerebbero contro di lui. E allora... Chi siederebbe sul trono? Veidro fa... Arkonen! Sei mesi in su. Il nemico ha assassinato un grande uomo. Scolar Visari, il padre della nostra nazione. Oggi ricordiamo la speranza che ci ha lasciato. La missione che ci ha lasciato. Liberami dal demone Fremen. In futuro, racconteremo ai nostri figli di questo giorno. Il giorno in cui la sua visione è divenuta finalmente reata. Grazie a tutti.